Per fare il medico, un po' come tutte le professioni, occorre avere vocazione, ma secondo un'indagine della Federazione dei Medici Internissi Ospedalieri, su un campione rappresentativo di camici bianchi di tutte le regioni italiane, uno su dieci cambierebbe mestiere, ma non solo. Il dato significativo riguarda la pensione. Il 46% dei medici, pensa a quella anticipata, il 38,7% dei non pensionabili vorrebbe lasciare il pubblico. C'è però una notizia confortante riguarda il 70% dei medici ospedalieri che vede ancora nel Servizio Sanitario Nazionale un baluardo del diritto alla salute che mette le ragioni assistenziali davanti a quelle economiche. La motivazione maggiore al pensionamento anticipato per il 57% è la paura di un taglio dell'assegno pensionistico, magari con misure retroattive, mentre il 30% indica gli eccessivi carichi di lavoro. La bassa retribuzione motiva invece poco più del 2% e la voglia di chiudere la carriera all'estero, il 9%. Ma anche chi non è in età di pensione, nel 38% dei casi, valuta di lasciare il servizio pubblico, il 21% per andare nel privato, il 4% all'estero e un 12% di scoraggiati pensa di cambiare del tutto attività. Ma cosa bisognerebbe fare per invertire questo trend? Meno di un medico su 10, cioè il 9,8%, pensa che gli straordinari meglio retribuiti possano risolvere il problema delle liste di attesa. Per il 41,2% invece il problema dovrebbe essere affrontato assumendo personale.